Abbiamo atteso 17 anni per arrivare a questo momento, Calici di Stelle non è mai arrivato a Bari, ha attraversato tutta la Puglia, comuni importanti come Lecce o piccoli centri del Salento o del Foggiano, eppure a Bari non era mai arrivata. Finalmente ci siamo, al 17esimo anno di vita Calici di Stelle, Scegli e Bari, in particolare il Borgo Storico, uno dei più bei borghi storici d'Italia, lo facciamo mettendo a disposizione una città bellissima oggi, con una luna speciale, calante, un mare placido, un leggero vento di brezza, c'è tutto quello che serve per una grande serata.